Design, qui dall'Istituto Italiano di Design, sono Nicola, qui docente di web marketing. Oggi sono in compagnia di un grande maestro della fotografia perugina e non solo, Marco Giugliarelli. Innanzitutto non sono maestro, ma sono bidello, nel senso più nobile del termine. Penso che la figura del bidello sia forse la figura fondamentale nelle istituzioni scolastiche. Ecco, un bidello fotografo. Ecco, questo mi va meglio. Il bidello fotografo, come vedete ci prendeva molto in giro. Allora Marco, chi sei? Allora, sono io, sono un fotografo da 25 anni, faccio quello che in termine fico viene definito fotoreporter, lavoro principalmente per l'editoria. In Umbria sono il fotografo del quotidiano Il Messaggero e di tante altre cose. Bene, tra queste sei anche un fotografo puro, nel senso fai il fotoreporter ma poi fai fotografia in generale. Infatti sei qui per questo motivo oggi. Sì, 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 sono qui per questa anteprima di un progetto molto bello che si chiama Scoprendo l'Umbria, nel quale Sistema Museo, che è l'organizzazione che gestisce musei in tutta Italia, per questa organizzazione stiamo facendo un progetto che è andare alla ricerca di luoghi della cultura, non soltanto musei ma anche luoghi essenzialmente dell'arte, della tradizione culturale Umbra, in giro per l'Umbria, spesso luoghi anche non conosciuti e io li fotografo diciamo con luci inconsuete. Abbiamo iniziato... Infatti la mostra si chiama Luce. La mostra che c'è adesso a Dorvieto, che è un'anteprima di questo progetto, che è un progetto editoriale, la pubblicazione sarà, uscirà un libro a dicembre. C'è una mostra che è un po' un'anteprima di questo progetto, in questo momento è a Dorvieto, al Palazzo di Sette, fino al 18 di settembre. E nella mostra ci sono dieci immagini enormi, stampate enormi, tre metri per due. Bello! Molto bello, per me molto faticoso e anche molto impegnativo perché... Eh, cioè devi fare la foto. Eh, perché la foto deve funzionare per essere gigante, sposta ad alto in questo spazio espositivo che è molto bello, in pieno centro d'Orvieto, uno spazio anche molto prestigioso. Devo dire che ero molto titubante quando mi hanno proposto una mostra lì con dieci foto a grande formato, però funziona, la mostra sta piacendo, le persone vanno, nonostante che si trovino in posto queste mie foto ipertrofiche. Ma poi sai se queste foto si sposteranno da qualche altra parte dopo questa mostra? Sì, c'è in progetto che queste immagini proseguono in due luoghi che per ora sono indicati come Città della Pieve prima e Monte Falco poi, però le date ancora non sono specifiche, ma dovrebbero essere due eventi che durano circa un mese da qui alla conclusione dell'anno. Ok, quindi entro l'anno insomma la troviamo anche da... No, perché il 18 settembre è molto vicino, quindi qualcuno magari non riuscirà a raggiungerlo. Però andate, perché Orbea è bella, il posto è bellissimo, in realtà merita, poi si raggiunge, nel centro Italia si raggiunge facilmente da qualsiasi posto. Sì, sì. Mi dicevi c'è anche un altro progetto a Bruxelles, fotografico. Ah sì, adesso a Bruxelles, nell'ambito dell'attività del Parlamento europeo rivolto alle regioni, a Bruxelles nei primi di ottobre verrà presentato un progetto sulla ricostruzione del terremoto, sia su quello del terremoto del 1997, sia dell'ultimo del... Tu già c'eri, quindi sei abbastanza anziano. Io già c'ero, sono anziano, sì, sono anziano, sono notevolmente anziano, sono quasi vecchio, direi. Ho passato anche l'essere uno metodo di mezza età, sono oltre. Sei andato oltre i 50? Sono intorno ai 50. Ecco. No, così giusto per... Poco prima, ma mi dimostro lì. Ti sei fermato poco prima. Sì, e più non mi mandano, non passo le sante. Insomma, con delle immagini mie e di un altro fotografo molto bravo, che è Fabrizio Troccoli, presentiamo questo progetto sulla ricostruzione sia dell'ultimo terremoto, ma anche quello di 20 anni fa, appunto in una delle sedi del Parlamento europeo, i primi di ottobre. Figo, che quindi fa vedere la ricostruzione di questi due terremoti. Sì, sì, è un progetto in realtà molto interessante, anche perché il terremoto di 20 anni fa l'abbiamo raccontato attraverso i ragazzi che adesso hanno 20 anni, cioè i ragazzi nati nell'anno del terremoto del 97, li abbiamo usati come testimonial dei luoghi ricostruiti dopo 20 anni. Sì, sì, bel progetto. Sono due progetti che, francamente, devo dire, mi hanno arricchito tantissimo. Uno, stare insieme ai giovani, da anziano, insomma, il progetto del terremoto è stata un'esperienza molto bella, confrontarsi con loro, vedere una tragedia che io ho vissuto da fotografo, quindi ne ho vissuto 20 anni fa, il dolore, eccetera, eccetera, vedere come da questa tragedia in realtà nascono delle cose estremamente interessanti, perché in molti posti questi ragazzi di 20 anni frequentano luoghi nati grazie alla ricostruzione, che sono diventati luoghi di aggregazione, di crescita, di formazione anche di una comunità. Ma curiosità, nel 97 tu avevi già la camera digitale o? Allora, no, nel 97 lo documentai esclusivamente in analogico. Pazzesco. Sì, 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 sì. Io ho iniziato a scattare in digitale per lavoro, se non sbaglio, nel 98 o forse nel 99. Quindi qualche anno dopo. Sì, 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 ed esclusivamente, credo che nel 2001 passai totalmente al digitale per lavoro, sì. Quindi sono gli scatti di allora, ah no, giustamente riguardo alla ricostruzione. No, gli scatti di allora li abbiamo preso pochissimi e non saranno esposti. Quello che portiamo in realtà sono scatti di prodotti negli ultimi due anni, sì, insieme a questi ventenni di oggi. Facendo vedere. Il terremoto di 20 anni fa, la ricostruzione l'abbiamo raccontata attraverso questi ragazzi. Poi abbiamo raccontato quello, gli interventi che sono in atto ora, tra l'altro quello importantissimo anche per l'Europa della Chiesa di San Benedetto, c'è tutto un lavoro sulle ipotesi di ricostruzione, c'è anche molto dibattito, un dibattito molto interessante, perché c'è chi vuole ricostruirla tale, quale, com'era, e chi invece sposa una tesi, che tra l'altro a me mi trova molto d'accordo, sul costruire altro, anche perché lì la Chiesa di San Benedetto, che è simbolica di questo terremoto, è simbolica anche per l'Europa, fondamentalmente era una Chiesa rimaneggiata nei secoli, le parti rimaste sono le parti originarie, cioè la cripta, che è importante, perché è quello considerato il luogo natale di San Benedetto e Santa Scolastica, dove sopra era stata costruita questa basilica, originaria era anche, insomma, piuttosto antica, era originaria l'abside, la facciata era abbastanza recente, cioè aveva un paio di cento anni, ma il resto della basilica era una cosa trasformata più volte, quindi ricostruire, per me, ricostruire tale e quale, una cosa che era già stata ricostruita più volte, non è che ha tutto questo senso, mentre conservare le parti simbolicamente importanti, ricostruire sopra, e costruire sopra qualcosa, che testimonia anche il terremoto che c'è stato, ma la ricostruzione, e anche la rinascita di una città, a me sembra un progetto ambizioso e intelligente, sembra un po' un guardare avanti. Certo. Bene, dove possiamo trovare online, se possiamo seguirti, o trovare dei riferimenti su questi progetti e altro? Allora, sui progetti, essendo io una persona estremamente confusa, vi posso dare, cioè il mio, i miei due riferimenti sono il mio Instagram, mi trovate su Instagram come Marco Giugliarelli, non sono molto originale, ma andate abbastanza sul sicuro. È una vergogna, direi. Sì, sì, sono vergognoso, ma io qui c'ho, mi dovrei avvalere di una persona abilissima nel posizionamento web. Poi ti faccio un preventivo. Che è Nicola Palumbo, che mi deve chiedere almeno il doppio video, visto che, almeno il doppio, come avrebbe detto Bud Spencer. C'è Arianna Bellocchi, che ci stima dei cuoricioni. Salutiamo Arianna Bellocchi. Ah, e devo dire a proposito, a parte della, se non sbaglio, la foto del profilo di Arianna Bellocchi, che appare, sai che l'ho fatta io? E nessuno l'ha pagata probabilmente. No, 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 questa qui, allora, diciamo che Arianna, Arianna mi ripaga con tutto il suo affetto e la stima immeritata. Salutiamo, salutiamo Arianna. Paga in stima, anziché visibilità in stima. Questa è una novità. Ah, certo, certo, certo. Noi siamo avanti, siamo assolutamente avanti. Ma te ancora non ti hanno mai pagato in stima, eh? Ma in stima è nuovo come tecnica. Ti faccio un assegno. Ti fa un assegno di stima. Assolutamente. E potrebbe essere finito. Voglio almeno il doppio. Ti posso pagare un bel sito web in stima? Va bene, ci penseremo, ci penseremo. Ogni va, eh? Tutto i va. Tutto i va, tutto i va. Stima più i va. Bene, allora quindi ti seguiamo su Instagram. Sì. E lì troviamo tutti i riferimenti per questi progetti e altri. Avanti. Potete stalkerarlo lì. Vi aspetto coraggiosi. Intanto è stato pure menato mentre facevo il portiere, si può vedere in video. Visto che era 25 anni che non giocavo a calcio, giocavo prima male, mi hanno convinto, con una maglietta che non è questa, a fare il portiere ad un torneo dove c'erano tutti i ragazzi giovani, ball di artisti, suonatori, eccetera, eccetera. Io da vecchio sono andato lì e sono riuscito a farmi male. Ecco, sono per la prima volta senza stampelle dopo sei giorni. Forse è meglio se torni a fare il fotografo. Sì, forse quella è la cosa che mi riesce meglio. Va bene. Allora, grazie mille Marco e alla prossima intervista. Ciao. Ciao. Ciao.